oggi riprendiamo in mano il nostro libro di catechesi spirituale la divinizzazione della sofferenza di adolf tanker e ci troviamo alla pagina 20 quando comincia la passione quando comincia il martirio l'umiliazione la sofferenza di nostro signore gesù cristo comincia con l'incarnazione questo martirio inizia dal primo momento in cui il figlio di dio assume un corpo dice adolf tanker e nel grembo virginale di maria continua poi per tutta la sua vita mortale e raggiunge il culmine nel calvario non è il calvario l'unica passione di cristo sì quello è il culmine ma è stata tutta la sua vita financo l'incarnazione ha umiliato la sua dignità divina facendosi uomo in tutto e per tutto tranne che nel peccato nell'antico testamento c'erano i sacrifici di animali gli animali venivano ammazzati per diciamo così per placare dio per ringraziare dio per lodare io via di seguito ma questi sacrifici sebbene siano stati istituiti da dio stesso avevano solo un valore di prefigurazione non erano fini a se stessi prefigurazione di che cosa del grande sacrificio dell'unico vero agnello immolato per la salvezza di tutto il popolo di israele di tutto il popolo umano che è il messia si compì il tempo in cui queste vittime sacrificali imperfette sarebbero state finalmente respinte per far spazio alla vittima con la v maiuscola immacolata la vittima perfetta che da sola poteva piacere a dio e quel momento fu l'incarnazione del verbo con l'incarnazione tutti i sacrifici diventano super il redentore già vede distintamente però tutti i dolori che lo aspettano la sua intelligenza umano divina già capisce già percepisce e lo percepiva perfettamente anche la santa vergine maria tutto il dolore l'incomprensione l'odio e il rifiuto da parte dell'uomo nella sua vita nascosta come nella vita pubblica soprattutto nella sua dolorosa passione e lui tutto questo accetta conoscendolo in anticipo e lo offre per la glorificazione di dio e la salvezza degli uomini questo sacrificio iniziato il giorno dell'incarnazione offerto da gesù sull'eccesso altare del cuore di maria continuerà per tutta la vita del salvatore anche maria partecipato a corredento con gesù genere umano anche lei ha sofferto insieme a cristo fin dalla sua nascita stessa perché aveva la percezione aveva il discernimento quello autentico quello dello spirito santo che il messia avveniva era già preferito curato nell'antico testamento era veniva per soffrire per morire per il suo popolo finalmente si manifestò al mondo però gesù sposò però la povertà una povertà completa lui dio il creatore dell'universo quello che ha creato le ricchezze bene di questa terra ha scelto la più grande umiliazione uno quello di diventare uomo ma anche di accettare la sofferenza e di nascere nella sofferenza nell'umiliazione e la povertà nel rifiuto da parte degli uomini lui il creatore dell'universo non c'era posto per il signore del mondo nel mondo dice anche il prologo del vangelo di giovanni il verbo incarnato abbraccia generosamente però tutte queste privazioni e le sofferenze della povertà allora la povertà vedete in sé non è un valore che non mi vengano a dire i pauperisti cattolici che poi in realtà viaggiano in porsche o in rolls royce e che hanno dei conti milionari che la povertà è un valore tutte queste sciocchezze non è un valore la povertà la miseria è una cosa negativa ma gesù cristo è venuto ad abbracciarla per farsi vicino a tutti quanti anche ai più poveri e più reietti ancor più gesù doveva soffrire per l'ingratitudine degli uomini vedete le sofferenze fisiche le sofferenze morale le sofferenze materiali della povertà e della mancanza di tutto del freddo sono nulla rispetto alla sofferenza dell'ingratitudine della mancanza di amore di noi uomini i pastori accorrono gli ultimi reietti adorano il figlio di dio ma i suoi quelli che costituiscono il popolo eletto continua tanchere non lo hanno accolto a motivo dei loro pregiudizi quanti pregiudizi religiosi fedelissime alle tradizioni ma che hanno escluso il figlio di dio con questo non significa che allora le tradizioni religiose siano negative la tradizione sia una cosa negativa è una cosa arciottima ma deve servire a preparare il nostro cuore ad accogliere cristo noi possiamo usare la tradizione per rifiutare cristo come hanno fatto i varisei noi possiamo usare il progressismo per rifiutare cristo come fanno i progressisti l'importante è accogliere cristo nella nostra vita nel nostro cuore nella nostra mente perché la vera conversione riguarda anche il modo di pensare per questo questo lo approfondiremo magari in un altro momento è vero che alcuni grandi della terra e i magi vengono dall'oriente per adorarlo ma è cos'è un piccolo manipolo di uomini questi quattro gatti diciamo così di fronte alle milioni di persone indifferenti se non addirittura ostili o che lo combattono pensate poi al prototipo di questi erode che addirittura non riuscendo cercando di sterminare gesù cristo perché ha paura che gli porti via come tutti i potenti della terra hanno paura che i cristiani gli portino via il potere non sanno che non gli portano via un bel niente un bel fico secco di niente anzi anzi sono gli altri piuttosto che glielo portano via e cosa fa stermina dei bambini innocenti gesù sfugge al massacro ma deve conoscere con questo il i dolori dell'esilio di essere lontano dalla sua patria poi la vergine maria lo presenta al tempio voi sapete che ogni figlio primogenito maschio doveva e apparteneva al signore nella legge di israele e quindi se lo si voleva tenere diciamo così bisognava bisognava riscattarlo e dopo l'offerta al tempio e così avviene anche per gesù e quindi anche proprio la la pratica religiosa tradizionale degli ebrei di offrire il figlio al tempio a dio padre avviene e rende ancora più consapevole la vergine maria e poi tutti noi del fatto che lui è offerto a dio per noi ecco io vengo dice la sacra scrittura o dio a fare la tua volontà offerta e sacrificio non gradisci ma io vengo per fare la tua volontà questa volontà lo sa molto bene gesù comporta dolore e morte e noi lo sappiamo anche per noi guardate che la stessa cosa per noi uomini seguire la volontà di dio ma anche per chi non la vuole seguire la vita inevitabilmente anche per i ricchi anche per i potenti è fatta di malattia sofferenza e alla fine la morte nessuno le scampa e lui accetta il dolore la morte per amore vedete lo si può accettare forzati perché siamo costretti dalla realtà fattuale della limitazione della nostra natura anche se c'è qualche stordito che già favoleggia l'ipotesi che l'uomo possa essere rimordare poveri sciocchi lo saremo dopo la morte ma lui accetta questa sofferenza questa morte già lo sa molti però risponderanno al suo amore solo con ingratitudine e odio è impressionante e mi risulta incomprensibile se non fosse veramente per il misterium iniquitatis il mistero del male e il demonio che accende il cervello infiammato delle persone tutto quest'odio per i cristiani questo quest'odio per cristo quest'odio per dio quest'odio per la verità che appena solamente la si cita la gente si inalbera odia ti odia rabbiosamente sei un nemico ma lo perseguiteranno con il loro odio esclamando schiacciamoli infame vi ricordate nella rivoluzione francese voltaire e casele infame schiacciate l'infame gesù cristo la chiesa che è il corpo mistico di cristo e questo il dolore più grande del suo cuore colmo d'amore dice tanchere e gli accetta però questo dolore accetta che tutto quello che ha sofferto per alcuni sia inutile perché l'ha sofferto per amore e quindi non si può obbligare qualcuno ad accettare questo amore lo offre affinché almeno gli eletti possano essere salvati e così non sia dannato se non chi vorrà ostinatamente rifiutando di sottomettersi al suo amore allora mettete da parte il misericordismo d'accatto eresia infernale autenticamente satanica anche se nella bocca di alti prelati la misericordia di dio è infinita ma va coniugata alla sua infinita giustizia all'inferno ci vanno le anime purtroppo l'inferno non è vuoto è un luogo orribile dove ci sono i demoni dove ci sono dove c'è giuda dove sono tutti quelli che hanno rifiutato l'amore infinito la misericordia infinita di dio perché dio te la può dare infinita ma se tu la rifiuti lui rispetta la tua libertà terribile questa nostra libertà è terribile ci fa grandi ma ci fa anche ci mette nel rischio per colpa nostra di buttare via la nostra esistenza ecco chi e quindi la sua redenzione la sua sofferenza è aggravata dalla coscienza che per alcuni la sua redenzione sarebbe stata inutile e non perché non sia sufficiente perché lo rifiutano ecco grazie quindi dobbiamo dire a gesù insieme ad adolfo anche re grazie gesù per tanto amore tanto sacrificio e possa almeno il riconoscimento e la simpatia delle anime ferventi e queste parole ci aiutano un pochino ad accendere il nostro cuore nel fervore di amore per gesù cristo possano consolarti dell'ingratitudine degli altri posso io consolare dell'ingratitudine di coloro che odiano feriscono ancora oggi anche all'interno della chiesa gesù cristo che sputano sulla sua resurrezione sulla sua redenzione ne abusano posso come unendo la mia la mia sofferenza unendo la mia croce e ciascuno unendo la sua croce a quella di cristo per seguirlo possano le loro opere apostoliche ridurre il numero dei reprobi perché in questo noi siamo corredentori anche noi noi con le nostre sofferenze con le nostre preghiere con i nostri gesti con la nostra evangelizzazione con il nostro sacrificio possiamo fare quell'opera grandiosa di essere corredentori e di ridurre il numero di coloro che rifiutano cristo e che si dannano di più non ci è dato di fare ma questa cosa che noi possiamo fare è la nostra vera grandezza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti